Alla fine di queste quattro giornate di dialoghi al Festival di Torino abbiamo parlato di sconfinamenti, ma c'è un tema che è tornato ricorrente, quello della comunità. La comunità che nella prima serata degli sconfinamenti naturali si è riscontrata negli orti urbani, dove anche in un quartiere di gentrification, in un quartiere difficile, la popolazione si riunisce. Comunità è anche quella che a Marsiglia, dove sono stati riqualificati i DOCS, si è ritrovata a unire la città, a godere del link tra città e mare, da sempre separati. Comunità anche questa sera, quando si parla di scuole, dove è importante che i cittadini, gli insegnanti, i ragazzi, siano comunità e siano parte attiva nella progettazione e nell'organizzazione degli spazi. Infine comunità anche negli spazi culturali, dove è compito dei curatori e degli architetti creare lo spazio, ma poi è importantissimo creare degli eventi perché questi spazi siano realmente fruibili. Il dialogo architetto e non architetto ha funzionato molto, soprattutto perché apre gli occhi anche agli architetti, permette di guardare da un altro punto di vista quello che loro fanno. Quando gli architetti imparano a non parlare in architettese dei loro progetti, diventano più semplici, più divulgativi e più chiari anche, magari con la possibilità di trovare nuovi committenti che apprezzano il valore aggiunto di un progetto.